Quando la fede è viva, la preghiera è accorata. Non mendica, spiccioli. Non si riduce ai bisogni del momento. A Gesù, che può tutto, va chiesto tutto. Non dimenticatevi di questo. A Gesù, che può tutto, va chiesto tutto. Con la mia esistenza davanti a Lui, Egli non vede l'ora di riversare la sua grazia e la sua gioia nei nostri cuori. Ma purtroppo siamo noi a mantenere le distanze, Forse per timidezza, o pigrizia, o incredulità.